Gli non conosce la parola chezzeggiare? Ebbene sì, quando l'impegno non chiama ci togliamo ogni sorta di curiosità e vediamo quali... Più fuori dell'acqua. C'è tanto da piangere. Anche così, si va in onda. A chi vive su un'isola, potrebbe ritrovarsi in una condizione del genere e anche qui c'è un rimedio. Direi che la faccia ce l'abbiamo nel posto giusto. Gli unici che potevano arrivare a pulire le orecchie a una giraffa sono i vadussi. Si bruciano calorie solo in movimento, non sprechiamo energie inutilmente. Alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.